Musica Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi riprendiamo un'altra serie ancora, quella del setup per principianti. Vi avevo premesso di munirvi di aspirine e tutto quello che vi può far passare emicrani e mal di testa, perché è un argomento alquanto complesso da rendere semplice e diventa ancora più complicato. Quindi oggi si parla di quello che sono le sospensioni, la loro utilità e quale sono le regolazioni che andremo a fare e cosa si ottiene regolandole in un certo modo. Da premettere come al solito che quello che dico ragazzi è basato sulla mia esperienza e sulle documentazioni e le informazioni che sono andate a reperire sul web per cercare di avere il maggior dettaglio possibile, l'ho rielaborato in modo tale che sia comprensibile a un pubblico neofita, quindi di esperti ragazzi. Se notate qualcosa che non va su quello che dico, come al solito c'è questa bella funzione, come ho detto nel video precedente, commenti, lasciate un commento, che sarà modo di poterne discutere, approfondire e magari correggere gli errori e le cavolate che andrò a sparare probabilmente in questo video. Nella speranza di fare meno errori possibili inizierei subito da un concetto fondamentale che è sicuramente importantissimo sapere che per un buon funzionamento, un buon setup, bisogna assolutamente capire dove vanno a finire i pesi dell'auto, dove si trasferiscono i carichi e per questo è importante sapere su quali assi un'auto viaggia. Quindi, grazie Carlo per questa fantastica idea di farmi prendere un modellino, in modo tale che io vi possa spiegare bene come funziona, o meglio cercherò. In pratica, quando voi accelerate con la macchina, la macchina trasferisce il suo carico verso dietro, ok? Verso dietro, quando frenate verso avanti, quando prendete una curva, se prendete una curva verso destra, il carico si trasferirà, che io giro così, a sinistra e viceversa se vado a sinistra sulla destra, d'accordo? Ma c'è anche un altro trasferimento che è uno specifico, si chiama pompaggio, che è la relazione degli ammortizzatori, d'accordo? Quindi questo è il trasferimento di carico, come funziona in modo generale, d'accordo? Per una nomenclatura più specifica, come si chiamano, diciamo, questi assi, quali sono i movimenti che fa. Sull'asse longitudinale dell'auto, l'auto, quando accelerate e quando frenate, fa beccheggio, c'è il becco, verso avanti e indietro, sull'asse trasversale c'è questo, d'accordo? L'auto fa un movimento di rollio, e questo dovrebbe essere familiare per voi, se avete preso l'aereo, beccheggio, rollio, d'accordo? E sull'asse verticale, l'auto fa due movimenti, cioè due trasferimenti, l'imbardata e il pompaggio. Asse longitudinale, beccheggio, quindi trasferimento di carico davanti e dietro, dietro e davanti, rollio, da destra a sinistra e da sinistra a destra, questo, imbardata, drift, ragazzi. Drift, infatti, si dice che quando fate drift, siete in imbardata con un angolo di deriva, perché l'angolo di deriva è l'angolo che si forma tra la direzione dove punta il vostro muso e invece la direzione dritta che va la macchina, infatti si fa drift. Infatti ci sono anche i calcoli scientifici per quanto riguarda lo studio del drift, angolo di deriva, imbardata, eccetera. Vabbè, questo non è il discorso che ci interessa. E sull'asse verticale c'è un altro movimento che si fa, quindi pompaggio, d'accordo, e imbardata, perché è sull'asse verticale. Quindi questo è come viene chiamato tutto il trasferimento di carico, cioè come lo chiamiamo, su quali assi ci lavoriamo per poter studiare i movimenti dell'auto e lo scarico dell'energia e il trasferimento di carico. Perché quando una macchina si sposta, ragazzi, ovviamente crea dell'energia. E già dell'energia ne abbiamo parlato tantissimo. Bene, allora, cosa ci viene in aiuto per poter gestire queste energie generate dal movimento dell'auto? Le sospensioni. Cos'è una sospensione? È a muovere il bello. La sospensione non è nient'altro che un insieme di componenti che collega degli elementi non sospesi della macchina, le ruote, i freni, queste robe qua, ha il telaio e che nella sua complessità hanno il compito di smorzare tutti quei elementi che genera l'auto quando cammina. D'accordo? Questo lo dico semplicemente per farvi capire che una sospensione è quella che unisce il corpo macchina a tutti quegli elementi non sospesi, soprattutto per noi le gomme, d'accordo? E che va a fare un lavoro tale da, diciamo, limitare tutte quelle che sono le oscillazioni. Perché se no immaginate un'auto senza sospensioni, cosa succederebbe? Cosa succederebbe? Sarebbe impossibile, è un cut, cioè ti spacchi la schiena, non puoi gestire nulla, cioè perdi l'aderenza, un casino, va bene, non ci interessa. Quello che ci interessa è la sospensione. Quindi la sospensione è formata fondamentalmente da tre elementi. La prima sono le molle, quella classica a forma di spirale. Cerco di mettere qualche immagine qui per farvi capire. Dalle barre antirollieo che si occupano di regolare la velocità dei trasferimenti di carico. Questo mi pare semplice. E poi dampers, oppure ammortizzatori o smorzatori, che chiamano anche così. Le molle. Le molle. Le molle sono quell'elemento fondamentale che hanno come compito quello di smorzare i movimenti generati dallo spostamento del carico dell'auto. Infatti, comprimendosi, vengono a smorzare quell'energia cinetica che si è accumulata per effetto della gravità e quindi del movimento della macchina. D'accordo? Quindi si comprimono e vengono a ridurre questa energia cinetica. Se ben tarate, garantiscono un contatto ottimale della gomma con il suolo. Anche durante il trasferimento di carico, cioè in entrata di curva, quindi c'è uno spostamento di carico, in uscita e anche durante la frenata. Questo è il lavoro che fanno le molle. Parleremo quindi di molle rigide e molle morbide, che generalmente in un simulatore vengono regolate tramite, mi pare, newton per millimetro. Newton per millimetro. Poi dipende dal simulatore. Generalmente si dice che le molle devono essere più morbide possibili. entro in un certo range, ovviamente, altrimenti sia un movimento ondeggiante e che non viene a smorzare per bene quell'energia cinetica che si è accumulata e quindi avrete un effetto, come dire, come vi posso spiegare? Sì. Provate a buttarvi sopra il vostro materasso. Quell'effetto ondeggiante si ha finché praticamente le molle non riescono a smorzare questa energia che avete creato quando vi siete buttati sul materasso. Quindi più sono morbide, più metterà tempo la molla a smorzare questo movimento. Quindi, sì, la molla deve essere morbida, ma entro un certo limite, altrimenti si crea un ondeggiamento infinito e poi uno gli viene mal di mare e si deve prendere le pillole. E infatti, se l'auto è ondeggiante così perché le molle sono troppo morbide, si ha il rischio di fare un testa-coda e quindi ecco perché bisogna regolare bene le molle. Ovviamente in questo settaggio delle molle bisogna tener conto di alcuni fattori. la posizione del motore e la pista se è corrugata o meno perché un assetto troppo rigido potrebbe far perdere aderenza. Quindi capite perché vi parlavo di pillole anti-mal di testa? Quindi questi sono concetti generali di come funziona la molla e di come bisognerebbe settarla. Quindi andiamo a vedere una molla morbida che vantaggi dà e che svantaggi dà e una molla rigida che vantaggi dà e che svantaggi dà. Di norma, le molle anteriori vanno tenute più rigide rispetto alle molle posteriori. Di norma, il tutto dipende dal vostro stile di guida e dalle esigenze che avete del vostro setup della vostra auto. Quindi è sempre una norma generale, ragazzi. Quindi, occhio, io dico in generale, può stare a voi. Perché? Per avere più reattività dell'auto. Perché morbida dietro, dura davanti, si ha reattività dell'auto, soprattutto, bam, per le entrate in curva e per i cambi di direzione. Ok? Quindi, se è più rigida davanti, si ha più reattività della macchina. Perché avere le molle più morbide al posteriore? Semplicemente per avere più trazione in frenata ed in accelerazione. Perché si ha più contatto con l'asfalto, perché la molla è più morbida e di conseguenza si ha più trazione. La ricerca della trazione, ragazzi, questo è molto importante. Quindi, morbida dietro e rigida davanti. Regola generale. Quindi, per riepilogare una molla morbida anteriore, cosa mi dà come vantaggio? Potrò avere una miglior frenata perché riuscirò a dissipare più forza. Con le molle morbide al posteriore avrò più aderenza, soprattutto nei circuiti molto sconnessi. E gli svantaggi? Lo svantaggio è che, soprattutto nel monoposto, si ha il rischio di spanciare l'auto. Perché essendo più morbida si spancia. In caso di frenata, diciamo al limite, rischio un bloccaggio prolungato perché c'è molta dissipazione di forza. E quindi rischio anche di avere l'oscillazione del corpo auto che si prolunga. Quindi, di conseguenza, c'è la macchina un po' instabile. Quindi, questi sono gli svantaggi. E se ho una molla rigida? All'anteriore, una molla rigida mi dà maggiore attività e direzionalità. E questo è consigliato nei circuiti molto veloci in cui ci sono poche sconnessioni. Gli svantaggi, però, la minor ricettività del trasferimento di carico sicuramente aumenterebbe il rischio del bloccaggio delle ruote, sicuramente l'aumento del consumo delle gomme. Sotto sterzo, rischio di scaltare sulle sconnessioni, quindi aumento della percentuale delle possibilità di perdere l'auto. Questi vantaggi e svantaggi di molle rigide e molle morbide. Vediamo le barre anti-rollio. Le barre anti-rollio, come dicevo, servono a correggere il movimento orizzontale dell'auto. Con un'opportuna regolazione di queste barre anti-rollio possiamo avere dei benefici. Quali sono? E come si modificano? E cosa bisogna fare? Cosa bisogna capire? Vediamo subito. Quindi, come dicevo, le barre anti-rollio servono a regolare la velocità di trasferimento del peso della vettura, d'accordo? Nello specifico, la velocità di trasferimento di questo peso. Una barra morbida comporta una minor reattività allo sterzo, ma maggiore aderenza e minor consumo delle gomme. Solitamente si regolano le barre anti-rollio dopo aver regolato le molle. Solitamente. E generalmente si regolano per regolare il sotto o sovra sterzo. Spero che sappiate cosa sia il sovra sterzo e il sottosterzo. Altrimenti dovrò fare un video dedicato. Lasciatemi un commento qui per dirmi se devo fare o meno un video sul sovra e sottosterzo. E su questa base vi faccio un piccolo riepilogo di come si regolano le barre anti-rollio per correggere il sovra e sottosterzo. Di norma, per correggere il sovra sterzo di un'auto si ammorbidisce il posteriore e si irrigidisce l'anteriore. Al contrario, un'auto sottosterzante si indurisce la barra posteriore e si ammorbidisce la barra anteriore. Per ottenere maggior grip, quindi aderenza ragazzi, bisogna ammorbidire entrambe le barre. Quindi se avete trovato un giusto equilibrio con sovra sterzo e sottosterzo in base al vostro stile di guida e volete un pochettino di più di grip, basta ammorbidirle insieme. Tutti insieme, come dice Alex, Alessandro. Tutti insieme ammorbidiamo le barre anti-rollio e guadagniamo grip. Occhio però, se ammorbidite entrambe le barre ottenete meno reattività allo sterzo. Ok? E, al contrario, se volete più reattività allo sterzo, bisogna irrigidire entrambi dopo averle sistemate per il sovra sterzo e sottosterzo. Bisogna irrigidire le barre anti-rollio e cosa ottenete? Più reattività allo sterzo, ma meno grip, meno tenuta di strada. Passiamo quindi ai dumpers, smorzatori, ammortizzatori se preferite. Cosa sono e a cosa servono? I dumpers sono dei pistoni ad olio che cercano di smorzare l'energia cinetica che si crea con il movimento dell'auto, soccarico-scarico oppure, se preferite, estensione e compressione della molla. Il loro lavoro è quello di bloccare questo movimento in modo tale che non si inneschi un movimento infinito appunto delle molle. Mi comprimo e mi estendo, mi comprimo e estensione. Cioè, cercano di smorzare questo movimento. Altrimenti effetto materasso, come vi spiegavo all'inizio del video, all'infinito. Quindi immaginate l'auto. Gli effetti sono terribili. Se avete delle sospensioni che non funzionano bene, perdite la diaderenza, consumo gomme, c'è un po' di tutto. E quindi non riuscite a guidare e non siete performanti e poi dite Fabri, i tuoi video non vengono niente e ci consigli male. Quindi, ecco perché il dumpers deve essere regolato in un certo modo per cercare di smorzare questa energia cinetica in modo tale da bloccare assolutamente questo movimento ondulatorio che vi fa venire mal di mare. Quindi, i dumpers. Fast dump, slow dump. O meglio, compressione veloce, compressione lenta. Eh sì, ragazzi, ho detto che c'è una parte un po' complicata. Fast bump, compressione veloce. Permette stabilità nei dossi e nelle sconnessioni. Perché infatti adegua come deve, diciamo, seguire questa sconnessione la gomma. Si ha tendenza ad aumentare il valore della compressione veloce quando si ha la sensazione di avere questa macchina galleggiante, ondeggiante e quando si ha la tendenza a perdere repentinamente il controllo dell'auto. Quindi bisogna aumentarne il valore per smorzare questo ondeggiamento. Si riduce invece il valore della compressione veloce quando si ha la sensazione che l'auto vada verso l'esterno. Una specie di sottosterzo va. Cioè io sterzo e va all'esterno. Si abbassa questo valore. In linea di massima questo valore comunque va tenuto abbastanza basso. Ma come al solito, ragazzi, bisogna testare, provare, cercare. Se siete voi che dovete fare pratica in pista e cercare i valori che si adeguano di più alle vostre esigenze e al vostro stile di guida. Slow bump, compressione lenta. Regola generalmente quelli che sono i movimenti lenti della molla. Soprattutto in frenata ed in accelerazione. Infatti la loro regolazione ha un effetto in ingresso e in uscita di curva. Infatti se volete accelerare il trasferimento di carico bisogna regolarlo su valori minori e al contrario se volete trasferimenti di carico più rapide bisogna aumentare il valore. E dopo una compressione normalmente c'è sempre un'estensione. Quindi estensione veloce. Come si regola? In regola generale anche qui di norma si regolano i damper anteriori morbidi per ottenere più grip. Al contrario se volete meno grip e più direzionalità bisogna regolarli a valori bassi. I damper posteriori invece vanno regolati più rigidi per ottenere più stabilità soprattutto nei curvoni veloci. Bene ragazzi abbiamo fatto il giro di quello che è la sospensione. Mancano altri dettagli lo so. Tamponi di penecorsa e altre cose. Però già mi pare che il discorso così sia comunque di una certa complessità soprattutto per chi è neofita del settore e della simulazione e chi ha un primo approccio a quello che è il setup. Già capendo quali sono le modifiche da fare per ottenere una correzione sovra sterzo, sottosterzo e di come funziona il trasferimento di carico cioè visivamente capire che questo è il rollio, questa è l'imbardata, il pompaggio e questo è il beccheggio già è qualcosa di importante. E di come si comporta la macchina e di cosa si può andare a regolare e variare per correggermi questi effetti mi pare già qualcosa di interessante soprattutto come dicevo per chi è principiante. Se avete bisogno di maggior dettagli in merito a questo argomento qui quindi le sospensioni non esitate a lasciarmi un commento cercherò magari di integrare con un altro video sempre nel limite delle mie conoscenze e delle mie capacità ovviamente. Spero che questo video sia utile a tutti quelli che iniziano a cimentarsi nel setup a darvi un'infarinatura di quello che è il corpo sospensione chiamiamolo così in modo tale da avere le basi su quale appoggiarsi per iniziare a capire il funzionamento appunto delle sospensioni. Ragazzi come al solito commento qui sotto se qualcosa non va se volete dire qualcosa se volete iniziare una discussione o disquisire di qualsiasi cosa si sono open vi ringrazio per avermi seguito se il video vi è piaciuto pollice in su non esitate ad iscrivervi al canale ad attivare la campanellina qui sotto per essere notificati ogni qual volta spalmo un video sulla rete e noi ci vediamo prestissimo da Fabrizio è tutto ciao 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 ciao